La Vergine Maria ha rivelato un messaggio. Ecco le sue parole. Cari e adorati figli miei, io so che voi amate mio figlio Gesù, colui che ha sacrificato la vita per voi, colui che vi ha liberati dal peccato e vi ha dato la vita eterna. Proprio per il suo immenso amore per voi, lui si è sacrificato per la vostra salvezza, per darvi la vita e la pace. Lui ha dato la sua vita per voi perché vi ama immensamente. Siete Suoi figli, tutti quanti. Perciò Lui vi protegge proprio come si proteggono i figli, con amore, premura e affetto, dal giorno in cui nascete fino a quando vi accompagnerà in paradiso con Lui, verso la luce e la pace eterna. Voi siete Suoi figli e perciò dovete essere grati, dovete pregare ed essere fedeli a Cristo nostro Signore. Dovete ricordare il Suo sacrificio immenso e la Sua generosità nei vostri confronti, perché Lui vi ha salvati dalle tenebre e dal peccato infinito. Siate grati al Signore per la vita e tutto ciò che avete, un tetto sopra la testa, cibo da mangiare e acqua da bere, per voi e per la vostra famiglia o i vostri cari. Un posto caldo in cui poter riposare, una luce durante la notte, gambe per poter camminare, occhi per poter vedere il sole e le stelle, mani per toccare e naso per respirare. Tutto il creato è opera del Signore e della Sua immensa bontà infinita, tutto l'amore per i cristiani e per la vita. Tutto quello che voi potete fare, per ringraziarlo, è pregare. Ogni giorno, più volte al giorno, dedicate le vostre parole e i vostri pensieri al Signore, la vostra devozione deve essere per Lui. Cristo vi ama e vi protegge, da sempre e per sempre. Cari figli, abbiate fede e pregate, ascoltate le mie parole e siate puri dal peccato. Cosa ne pensi del messaggio di Maria rivelato a Miriana? Lascia un commento, iscriviti e attiva la campanella, così da non perderti altri messaggi della Vergine. a Miriana